Prima giornata di screening per la città di Benevento. 1500 tamponi si stanno effettuando in questa giornata da parte del personale dell'istituto zooprofilattico di Portici. In questo momento, come vedete, c'è il drive-in, è proprio chiamato così. Praticamente le macchine vengono incolonnate e man mano le persone vengono sottoposte al tampone faringeo. Le persone a cui è dedicata questa giornata per quanto riguarda il tampone sono le persone che in qualche modo si sono per lavoro mostrate in prima linea, quindi le forze dell'ordine e le persone legate alla pubblica amministrazione. Anche il sindaco Mastella questa mattina ha effettuato il tampone. Domani altri 1500 esami. Questo serve a porre a riparo un po', a creare barriera, perché il virus non è che sia morto, non è finito. Noi speriamo che non si ripresenti a settembre-ottobre, ma secondo alcuni virologi potrebbe anche presentarsi. Noi dobbiamo mettere a riparo la cittadinanza e renderla oggettivamente distante da quelli che sono i terremoti virali che ci sono in questo periodo. La prossima settimana vedrete, io presento altre iniziative per l'ospedale Fatebene Fratelli, per l'ospedale Sampio, perché regalerò assieme ai miei amici qualcosa di importante per gli ospedali. E questo per una ragione molto seria, perché voglio che l'ospedale di Benevento, che è stato molto presente, molto capace, qualora dovesse arrivare il virus in maniera ancora violenta successivamente, i cittadini di Benevento e della provincia possono stare a riparo, e sereni perché c'è là la possibilità di essere curati con gli strumenti più innovativi possibili. Quindi regalerò alcune cose con questi miei amici, lo dirò quando sarà il momento in due tranche, una cosa e l'altra. E non voglio che la gente debba andare più al nord o altra parte. Qua abbiamo eccellenze, capacità, l'ho rivelato i medici, quelli di medicina generale, quelli che sono gli ospedali. Voglio che l'eventualità sia curabile e quindi senza alcun indugio all'interno delle strutture della città e della provincia di Benevento.